Modi naturali per purificare l'aria a casa. L'aria all'interno della tua casa è in realtà due o cinque volte più inquinata e tossica dell'aria che respiri all'aria aperta. È davvero spaventoso. Facciamo regolarmente i controlli di salute, le pillole pop su base giornaliera, lo stress per le allergie, ma trascurano la cosa più elementare c'è la qualità dell'aria che e respiriamo 24-7. Tutto dai materassi che dormiamo ai pigiami dei nostri bambini può contenere sostanze chimiche nocive. La formaldeide, un gas tossico, si trova in insetticidi, colle, shampoo, creme da barba, tappeti ed è in realtà un cancerogeno. È anche presente nel fumo di sigarette. Che è un importante contributo all'inquinamento atmosferico e può portare a complicazioni potenzialmente letali, anche se è fumo di seconda mano. Inoltre, i prodotti chimici di vernice, la lavorazione del legno nella casa o nell'ufficio, i prodotti per capelli e chiodi, prodotti per la pulizia e i detergenti contribuiscono all'inquinamento atmosferico all'interno delle nostre case. Mi sorprende come tanti contaminanti potenzialmente dannosi siano intrappolati dentro le nostre case e non possiamo nemmeno aprire una finestra per ottenere aria fresca. Un team di ricercatori condotto dall'Università di Surrey del Regno Unito ha pubblicato uno studio sull'inquinamento atmosferico a Delhi, noto anche come la città più inquinata del mondo. Secondo lo studio, New Delhi soffre di una miscela tossica di geografia, di crescita, di fonti energetiche scarse e di tempo sfavorevole che aumenta i livelli pericolosi di inquinamento atmosferico. Aumenta la ventilazione. Le case ventilanti riducono i livelli di umidità, un problema importante per la qualità dell'aria interna. Ma no, non ti chiediamo di aprire una finestra e lasciare che l'inquinamento dell'aria esterna entri nel tuo spazio di vita. Invece, installare le bocchette di tricle per purificare e ciclo l'aria che si respira all'interno. Un'altra grande alternativa è quella di utilizzare ventilatori di scarico che aiutano a trasportare inquinanti esterni. Farlo un punto per ventilare la vostra cucina. Poiché la cottura può essere una fonte importante di inquinamento dell'aria interna, soprattutto se si dispone di una stufa a gas. Gli scienziati che misurano la qualità dell'aria interna hanno trovato che la cottura di un solo pasto su una stufa a gas può produrre livelli di biossido di azoto che l'epa ritiene pericoloso per respirare. Inoltre, dopo aver preso una doccia, assicuratevi di sfogare tutto il vapore e l'umidità supplementare nell'aria che possano causare la formazione di muffe. E muffe facendo girare la ventola. Candelle di cera d'api. Le candele a cera d'api agiscono come purificatori d'aria naturali. Se amate riempire la vostra casa con candele profumate, evitate le candele di paraffina che sono derivate da petrolo e rilasciano benzenne, toluene e fuligine nell'aria. Poiché queste candele fanno più male che bene, optare per le candele a cera d'api che ionizzano l'aria e neutralizzano composti tossici e altri contaminanti. Oltre a migliorare la qualità dell'aria a casa, le candele a cera d'api bruciano lentamente. Quindi non è necessario sostituirle spesso. Infatti, candele puro di cera d'api bruciano con quasi nessun fumo o profumo. Sono particolarmente utili per gli asmatici e per rimuovere gli allergeni comuni come la polvere dall'aria. Lampade al sale Una lampada di sale è un altro grande purificatore naturale dell'aria. I prodotti a cristalli salati tendono a ridurre l'irritazione aerea, gli agenti patogeni e gli allergeni tirando fuori il vapore acqueo dall'aria. Il sale rosa himalaiano è un naturale depuratore d'aria ionico che tira le tossine dall'ambiente e li neutralizza. Dice il dottor Manoi K. Uia, tocco di guarigione. Basta aggiungere una lampada di sale rosa himalaian nella tua stanza o vicino alla scrivania in ufficio fa il trucco, in termini di funzionalità e decorazione. Puoi lasciarla anche durante la notte, dal momento che il bagliore arancione naturale non interrompe gli ormoni del sonno. Nota da ricordare, le lampade a sale migliorano la purificazione dell'aria molto più quando vengono accese, ma sorprendentemente funzionano anche se spenti. Carbone attivo Utilizzare il carbone attivo come purificatore naturale dell'aria. Un modo fantastico per purificare l'aria interna è con il carbone attivo, chiamato anche carbonio Attivo È in odore, altamente assorbente e fa miracoli con l'eliminazione delle tossine dall'aria. Un altro modo fantastico per purificare l'aria a casa è naturalmente Il carbone di bambù Piante da appartamento La NASA ha condotto uno studio che ha dichiarato, gli alloggiamenti possono purificare e ringiovanire l'aria nelle nostre case e nei luoghi di lavoro. Salvaguardandoci da eventuali effetti collaterali associati a tossine prevalenti come l'ammoniaca, la formaldeide e anche il benzene. È il modo migliore per Contrastare l'impatto dell'inquinamento all'interno, in particolare se si dispone di un familiare con alcune malattie respiratorie. Si suggerisce di avere almeno una pianta per 100 metri quadrati di casa per una pulizia efficiente dell'aria da realizzare. Le piante migliori per filtrare le tossine dall'aria sono Pisliliche Preferisce la luce solare moderata, Lady Palm o Broadlef Lady Palm che è adattabile ma preferisce una luce luminosa e indiretta. La palma di areca, chiamata anche palm della farfalla, la palma delle palme e la palma di bambù cresce in luce luminosa e indiretta e può essere mantenuta ovunque. Specialmente nelle stanze da mocuette o di quelle recentemente verniciate. Il crisantemo, comunemente indicato come potmums, ama la luce del sole e la pianta di Denaro, ovvero Golden Potos, chiamata anche ed era del diavolo, pianta di denaro, vitigno d'argento, centipede tongavine adattabile. Un altro use plant che aiuta a Purificare l'aria è l'ivi inglese, spesso chiamato commonivi o ivi europee e può essere tenuto in stanze con computer, stampanti, fax e altri. Boston Fern inoltre Cresce facilmente in luce luminosa ed è la cosa migliore per appendere i cestini. Spider plant è utile nelle cucine con stufe a gas in quanto aiuta a controllare. Monossido di carbonio e xilene Oli essenziali In presenza di oli essenziali come cannella, origano, rosmarino, timmo, limone di pompelmo, chiodi di garofano, virus di alberi di tè, funghi, batteri e addirittura. Muffa non possono sopravvivere. Gli studi condotti dalla Weber State University dimostrano che il Tieve Soil ha un tasso di uccisione del 99,96% contro i batteri. Aerei È una miscela antisettica di oli essenziali puri, tra cui l'ago di pina, cannella, timo, eucalipto, limone e pompelmo che aiuta a mantenere la casa priva di Germi e purifica l'aria. Puoi aggiungerlo a saponi e detergenti per respirare aria più fresca e più pulita. Aria condizionata naturale Sebbene possa sembrare un'opzione migliore di gestire il sistema di raffreddamento centrale nei mesi estivi, resistere alla tentazione di aprire tutte le finestre che Consentiranno agli inquinanti di entrare nel tuo spazio di vita. Invece provare alcuni di questi suggerimenti per raffreddare la tua casa in modo naturale. Usare ventilatori a soffitto. Installare trattamenti finestrini a bloccaggio termico Ridurre al minimo l'utilizzo di apparecchi di produzione di calore Coltivi le piante per l'ombra Filtri dell'aria interna I filtri EPA sono un modo efficace per rimuovere contaminanti indesiderati dall'aria interna. Per l'utilizzo nei sistemi di aria centrali e nei purificatori portatili. Dell'aria, i filtri EPA devono essere regolarmente modificati per ottenere i migliori benefici per la salute. I tappeti sono una spugna tossica. Pulisci spesso. Soprattutto la parte della moquette vicina all'ingresso della casa. Secondo uno studio EPA, se si utilizza un Portellone e si scaricano le scarpe alle porte, le tossine comuni diminuiscono di circa il 60%. Eliminare l'umidità eccessiva, l'accumulo di polvere e l'uso di prodotti chimici come vernice, detergenti e fibre sintetiche. Nota laterale, dire no a spolverare. Asciutto. Utilizzare un panno umido per ripulire e per evitare di respirare tutte le particelle di polvere che vengono sollevate nell'aria durante la pulizia. Abbandonare il fumo e impedire agli ospiti di fumare all'interno della vostra casa. Quando si tratta di articoli per la casa, essere sempre alla ricerca di alternative naturali a oggetti chimici. Se hai piante a casa, pulisci le foglie regolarmente per sbarazzarsi di sporcizia. Resistete alla tentazione di aprire le finestre e di raffreddare la casa utilizzando ventilatori a soffitto, trattamenti finestrini che riducono il calore e minimizzando l'utilizzo di apparecchi per la produzione di calore. Poiché i solventi a secco per la pulizia possono essere tossici per respirare, prima lasciare che gli oggetti puliti a secco aria all'aria aperta prima di portarli. Dentro al fine di evitare che le sostanze chimiche entrino nella vostra casa. Pulisci il tuo condizionatore d'aria per aiutare a tenere lontano l'asma dalla tua casa. E non appena si notano goccioline e perdite, è necessario fissarlo. È meglio ridurre l'esposizione chimica in qualsiasi modo possibile, ma nel mondo chimico oggi chimico è praticamente impossibile evitare completamente. Tossine dannose. L'aria all'interno della tua casa è tipicamente più inquinata dell'aria esterna, dice l'Environmental Protection a Genchi. E la ricerca mostra che Trascorriamo la maggior parte del nostro tempo all'interno, cosa che è tanto più motivo per iniziare a pulire l'aria interna. Trascorriamo la maggior parte del nostro tempo all'interno, cosa che è tanto più motivo per iniziare a pulire l'aria interna.